Qual giorno che arriverà il morto, prenderò dal deposito questo carrello e lo porterò avanti al cancello. La macchina funebre arriva fino al cancello, poi l'entrata sarà fatta su questo carrello e il morto viene messo nella camera mortuaria fino alla mattina che poi viene fatta la sepoltura. Il morto lo dovrei attendere quando arriverà, perché finora non è arrivato ancora nessuno. Grazie a tutti. Sono più giovane, ho 40 anni e finalmente faccio il custode a livello cimiteriale.